Il seminario Memoria Prodigiosa Live è un corso che racchiude oltre 10 anni della mia esperienza sul campo nel trasferire le tecniche di apprendimento rapido. Quali sono queste tecniche? Innanzitutto le metodologie di studio, che sono un sistema che ci permette di andare ad acquisire qualsiasi tipo di informazione da quando andiamo ad aprire il libro a quando lo chiudiamo. Le tecniche di memoria, che servono per interiorizzare tutti i dati specifici contenuti all'interno del libro. Le tecniche di rilassamento e concentrazione, che ci permettono di rimanere rilassati in fase di esposizione. Le mappe mentali, una tecnica straordinaria di una potenza incredibile, della quale te ne renderai conto solo dopo averle imparate davvero. Per trarre il massimo beneficio dal corso ti do un consiglio importante. Partecipa quando sai che è il momento giusto per te. Non ha senso farlo se dopo non hai tempo di consolidare le tecniche che hai acquisito. Perché partecipare al corso? Uno, avrai un sistema di apprendimento rapido completo, dall'inizio alla fine. Due, avrai la certezza di ricordare qualsiasi tipo di informazione per te importante. E tre, come conseguenza, avrai molto più tempo per te. Memoria Prodigiosa Live. Ti stupirai della tua memoria.